Parliamo adesso di economia digitale. Entro il 2020 tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna potranno sfruttare la banda ultralarga, uno strumento essenziale per le imprese, come è stato ricordato in un convegno svoltosi oggi nella sede regionale di Union Camera. Una situazione molto diversa rispetto al resto del paese che è solo al 25esimo posto in Europa per diffusione della banda ultralarga. Sentiamo. La banda ultralarga è uno strumento indispensabile per consentire alle imprese di entrare nell'era del digitale, permettere loro di posizionarsi sul mercato globale abbattendo i confini di quello locale. Con una previsione al 2020, in Emilia-Romagna tutto il territorio sarà coperto dalla trasmissione ad altissima velocità, confermando una situazione molto più avanzata rispetto al resto del paese. C'è un indice europeo, indice DESI, secondo il quale noi siamo tra i 28 paesi europei al 25esimo posto e quindi c'è molto da fare in questo paese, siamo indietro. In Emilia-Romagna siamo più avanti. Al 2020 avremo la gran parte delle aree produttive infrastrutturate, quindi raggiunte dalla banda ultralarga. Occorre però sviluppare ulteriormente questa azione di tipo culturale per supportare le imprese a capire le opportunità che possono cogliere. In Emilia-Romagna abbiamo lavorato da tempo per realizzare delle infrastrutture laddove non c'erano, soprattutto nelle zone a divario digitale. Tutti i cittadini e tutte le imprese, indipendentemente da dove siano localizzate nel territorio dell'Emilia-Romagna, avranno una connettività in banda ultralarga e quindi almeno 30 megabit al secondo garantiti reali nel 100% dei casi e quindi non conterà se la casa è isolata, se l'azienda è isolata o quant'altro e almeno 100 megabit al secondo per l'85% della popolazione. Per sensibilizzare le imprese a cambiare marcia digitale è nato Ultranet, progetto delle Camere di Commercio finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'impresa ancora non è completamente consapevole delle opportunità del percorso di digitalizzazione dell'impresa. È provato che le imprese che si affacciano e sviluppano progetti digitali sono imprese che crescono più velocemente, migliorano la loro posizione sui mercati e riescono meglio a competere nei propri territori.